segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ha detto io mi voglio fidare del patriottismo costituzionale di fratelli d'italia la frase abbiamo consegnato il fascismo alla storia è una frase una frase abbastanza lucubre perché abbiamo consegnato che cosa la shoah alla storia abbiamo consegnato cosa vogliamo dire come non detto vogliamo dire che tutti i morti del fascismo tutti i milioni di morti europei del fascismo del nazismo tutte le vittime del della della shoah o sacrificate alla violenza intollerante del fascismo e li consegniamo alla storia come se fosse un evento con un altro accadono tanti eventi e ciascuno di questi li consegniamo alla storia no non ci credo non ci credo non perché lei sia bugiarda ma non ci credo perché lei è abile a una notevole abilità retorica è abbastanza brava nel 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 esprimersi e nel abbassare il tono delle cose mostrando di non essere la stessa persona che ha proclamato la necessità di affondare la parola fondata affondare e di affondare i barconi e di chiudere e di bloccare il mediterraneo in modo che fosse un mare intransitabile per chiunque fosse in cerca di salvezza allora dette queste cose non abbiamo consegnato nessun fascismo alla storia allora il fascismo è lì non perché lei lo sia chiaro esprime una posizione molto netta colombo è un mondo in cui bisogna dividere in stranieri e nazionali bisogna dividere in razze il suo amico operon parla di razze che possono essere contaminate e il rapporto che lei ha con l'ungheria e con il leader ungherese è molto forte e si tratta di continuare a coltivare un mondo antico e anche un po lucubre come quello che lei ha rappresentato nel discorso di vox allora non dimentichiamo l'autrice del discorso di vox e dell'urlo nel discorso di vox potrebbe essere la prossima governante italiana è un discorso io lo dico come annotazione di cronaca poi lei giustamente colombo esprime le supposizioni maniera netta su quel discorso la stessa meloni in una intervista al corriere della sera ha avuto qualche parola di ripensamento grazie grazie furio colombo grazie marco antonellis noi ci dobbiamo fermare andiamo in pubblicità grazie a tutti